di dino buzzati il musicista invidioso voce di lorenzo pieri il compositore augusto gorgia uomo invidiosissimo già al colmo della fama e dell'età una sera passeggiando da solo nel quartiere udì un suono di pianoforte uscire da un grande casamento augusto gorgia si fermò era una musica moderna però diversa dal tipo che faceva lui o da quella che facevano i colleghi di simile non ne aveva mai sentita non si poteva neppur dire lì per lì se fosse seria o musica leggera pur ricordando certe canzoni popolari per una sua trivialità conteneva un amaro sprezzo e sembrava quasi che scherzasse benché nel fondo si avvertisse una convinzione appassionata ma soprattutto gorgia fu colpito dal linguaggio il quale era libero dalle vecchie leggi armoniche spesso stridulo e arrogante e nello stesso tempo riusciva ad una massima evidenza la caratterizzava inoltre un bello slancio giovanile levità senza alcuna traccia di fatica ma ben presto il piano tacque e inutilmente gorgia continuò a passeggiare nella via aspettando che ricominciasse chissà sarà roba americana pensava laggiù in fatto di musica combinano i più infernali intrugli e si avviò per rincasare tuttavia gli rimase quella sera e tutto il giorno dopo un fastidio nell'animo come quando cacciando per il bosco uno batte contro una roccia o un tronco e nella furia non ci bada ma poi di notte il punto duole e non si riesce a ricordare dove e come ci volle più di una settimana perché la cicatrice scomparisse qualche tempo dopo rincasato verso le sei del pomeriggio aperta che ebbe la porta di casa gorgia udì la voce della radio accesa nel salotto e dun subito con la prontezza dell'esperto riconobbe il suono questa volta era musica d'orchestra e non più di pianoforte solo eppure identica al pezzo udito quella sera lo stesso accento atletico e superbo e sempre il bizzarro periodare con l'autorità quasi oltraggiosa dell'idea che pareva il galoppo di un cavallo estremamente ansioso di arrivare gorgia non fece in tempo a chiudere la porta che la musica cessò e dal salotto con precipitazione insolita si avvicinarono i passi della moglie ciao caro disse non sapevo che tu tornassi così presto ma perché aveva quella faccia imbarazzata aveva qualcosa da nascondere che succede lui domandò perplesso come che succede e che cosa dovrebbe succedere maria si era subito ripresa non so mi hai salutato in un certo modo ma dimmi un po che cosa stava trasmettendo la radio a se credi che ci stessi attenta e allora perché l'hai spenta appena sono entrato mi fai un'inchiesta disse lei ridendo se vuoi proprio sapere lo spenta mentre ti venivo incontro ero di là nella mia camera e l'avevo dimenticata accesa trasmettevano una musica disse gorgia pensieroso una musica curiosa e si avviò verso il salotto benedetto uomo non ne hai proprio mai abbastanza di musica da mattina a sera musica non sei mai sazio e lasciala un po stare quella radio disse vedendo che egli stava per riaccenderla allora lui si volse ad osservarla sembrava inquieta quasi temesse qualche cosa con dispetto girò l'interruttore il quadrante si illuminò dall'apparecchio uscì il solito ronzio poi una voce abbiamo trasmesso un programma di musica da camera col prossimo concerto offerto dalla ditta tremel contento adesso fece maria che pareva sollevata la sera stessa uscendo dopo pranzo con l'amico giacomelli gorgia comprato il giornale della radio vi cercò il programma di quel giorno ore 16 e 45 c'era scritto concerto di musica da camera diretto dal maestro sergio anfossi composizioni di hindemith kund meissen ribbenz rossi e stravinsky no la musica che egli aveva udito di stravinsky non era di sicuro i nomi nel giornale erano in ordine alfabetico evidentemente la successione dei pezzi era stata cambiata nel concerto e neppure era musica di hindemith né di meissen gorgia li conosceva troppo bene ribbenz allora no max ribbenz suo antico compagno di conservatorio si era cimentato dieci anni prima in una grande cantata polifonica lavoro onesto ma scolastico e poi aveva smesso di comporre dopo tanto silenzio solo recentemente si era rifatto vivo piazzando un'opera al teatro di stato proprio in in quei giorni doveva andare in scena ma da quel lontano precedente si poteva prevedere cosa fosse dunque neppure ribbenz restavano kunz e rossi ma chi erano gorgia non li aveva mai sentiti nominare che cosa cerchi domandò giacomelli vedendolo così assorbito niente oggi ho sentito per radio una musica mi piacerebbe sapere chi è una musica curiosa ma qui non si capisce che specie di musica non saprei dire ecco una musica maleducatissima direi va là va là non pensarci scherzò giacomelli che lo sapeva suscettibile lo sai meglio di me il musicista che ti spianterà non è ancora nato anzi anzi disse gorgia indovinando l'ironia ne sarei felice io speravo che qualcuno finalmente un pensiero fastidioso gli passò a proposito è domani la prova dell'opera di ribbenz giacomelli non rispose subito no no disse indifferente devono averla rimandata e tu ci vai no sai fece giacomelli è una cosa superiore alle mie forze a questa frase gorgia tornò di buon umore povero ribbenz esclamò povero vecchio ribbenz sono proprio contento per lui almeno questa soddisfazione e dai e dai la sera dopo in casa gorgia tentava svogliatamente il piano quando a un tratto gli parve di udire di là dall'uscio chiuso un parlottio insospettito si avvicinò ad origliare nel salotto adiacente sua moglie e giacomelli stavano confabulando a bassa voce lui diceva ma lo verrà pure a conoscere presto tardi quanto più tardi meglio sarà diceva a maria lui ancora non deve sospettare niente meglio così ma i giornali non si può mica impedirgli di leggere i giornali qui gorgia aprì d'impeto la porta come ladri presi in fallo i due si levarono di scatto erano pallidi beh chiese gorgia chi è che non deve leggere i giornali ma ma disse giacomelli raccontavo di un mio cugino arrestato per appropriazione indebita suo padre che è mio zio non ne sa niente gorgia diede un sospiro meno male ebbe anzi un senso di vergogna per quell'irruzione un po indiscreta a forza di sospetti finiva per avvelenarsi l'esistenza ma in seguito mentre giacomelli raccontava il torbido malessere riprese era poi vera la storia del cugino non poteva giacomelli averla inventata lì per lì perché altrimenti quel parlottare sottovoce stava allerta non diversamente dal malato a cui i medici e i parenti nascondono la sentenza irrevocabile egli fiuta intorno la menzogna ma gli altri sono assai più astuti sviano le sue curiosità e se non riescono a tranquillizzarlo gli risparmiano almeno l'orrenda verità anche fuori di casa egli credeva di sorprendere sintomi sospetti per esempio certi sguardi ambigui di colleghi o l'ammutolire che facevano al suo avvicinarsi o l'imbarazzo nel discorrere con lui di persone abitualmente loquacissime gorgia si controllava tuttavia domandandosi se questa diffidenza non fosse un segno di nevrastenia invecchiando certi uomini vedono nemici dappertutto e che aveva da temere poi era famoso rispettato finanziariamente ben provvisto teatri e società di concerti si disputavano le sue composizioni di salute non poteva stare meglio non aveva mai fatto del male e allora che pericolo poteva minacciarlo ma ragionare così non gli bastava l'orgasmo lo riassalì il giorno successivo dopo pranzo erano già quasi le dieci nello scorrere il giornale vide che la nuova opera di ribbenza andava in scena quella sera ma come giacomelli non gli aveva detto che la prova era stata rimandata e come mai nessuno lo aveva avvertito sollecitando il suo intervento e perché la direzione del teatro non gli aveva mandato le poltrone come al solito maria maria chiamò col batticuore tu sapevi che la prima di ribbenza stasera maria accorse con affanno io io sì ma io credevo cosa credevi e le poltrone possibile che non mi abbiano mandato le poltrone sì sì non l'hai vista la busta te l'avevo messa sul comò e non mi hai detto niente credevo che non ti interessasse dicevi che non ci saresti mai andato non mi beccano dicevi e poi mi è passata di mente di confesso gorgia era fuori di sé io non capisco io non capisco ripeteva e sono già le dieci e cinque ormai non si fa più in tempo quell'idiota di un giacomelli il sospetto che da qualche tempo lo tormentava ora si era localizzato nell'opera di ribbenza per un motivo che egli non riusciva ad immaginare doveva esserci qualcosa di nefasto guardò ancora il giornale quasi non si capacitasse ma la trasmettono per radio voglio proprio cavarmi questo gusto maria fece una voce dolente augusto mi dispiace ma la radio non funziona non funziona e da quando non funziona da questo pomeriggio alle cinque ho fatto per accenderla c'è stato dentro un clic e non si è sentito più niente deve esserci una valvola bruciata proprio stasera ma vi siete messi tutti d'accordo per perché cosa messi d'accordo maria quasi piangeva che colpa ce ne ho io bene io esco una radio da qualche parte ci sarà no augusto piove e tu sei raffreddato è già tardi avrai tutto il tempo di sentirla quella maledetta opera ma gorgia preso l'ombrello era già fuori andò vagando finché lo attrassero le luci bianche di un caffè qui c'era poca gente un gruppetto si vedeva però raccolto in fondo nella saletta per il tè e di laggiù veniva musica strano pensò gorgia tanto interesse per la radio si notava solo la domenica quando trasmettevano partite poi il dubbio possibile che ascoltassero l'opera di ribbons ma era assurdo tra la gente che immobile ascoltava c'erano tipi al di là di ogni sospetto due giovani in maglione per esempio una ragazza di facili costumi un cameriere in giacchetta bianca gorgia fu tratto da un richiamo oscuro come se già da molti giorni anzi da mesi ed anni egli avesse già saputo di dover trovarsi là in quel locale non un altro a quell'ora destinata e via via che la musica lui avvicinandosi si rivelava nel ritmo e nelle note l'uomo provò una stretta al cuore era musica nuovissima per lui e nello stesso tempo scavata nel suo cervello come un'ulcera era la strana musica già udita per la via e poi a casa quella sera ma adesso era ancora più libera e orgogliosa e più potente di volgarità selvaggia non resistevano neanche gli uomini ignoranti i meccanici le donnette i camerieri schiavi e sconfitti restavano là a bocca spalancata il genio e questo genio si chiamava ribbens e gli amici e la moglie avevano tentato di tutto affinché gorgia non ne sapesse niente per la pietà che avevano di lui era il genio che l'umanità aspettava dalmeno mezzo secolo e che non era lui gorgia bensì un altro della sua stessa età finora ignoto e disprezzato come gli ripugnava quella musica che bello sarebbe stato smascherarla dimostrarla falsa coprirla di risate e di vergogna essa invece fendeva i flutti del silenzio come una corazzata vittoriosa e presto avrebbe conquistato il mondo un cameriere lo prese per un braccio signore scusi non si sente bene gorgia infatti barcollava no no grazie e senza bere nulla se ne uscì sotto la pioggia disperato madonna santa mormorava tra sé ben sapendo che per lui ogni gioia era finita ne poteva come liberazione offrire a dio questo suo dolore perché a questi dolori dio si indigna